Il bisogno di formare nuovi medici è una delle priorità emerse durante la pandemia. A Forliera venne inaugurato l'anno accademico della nuova facoltà di medicina. Per noi Serena Biondini. 190 matricole, 190 futuri medici potranno laurearsi ogni anno nei campus romagnoli dell'Università di Bologna. Dopo mesi di polemiche e in piena era Covid si aprono ufficialmente i corsi di laurea in medicina di Forlì e Ravenna. 95 studenti ciascuno che vanno ad aggiungersi ai 440 di Bologna per rispondere al bisogno sempre più urgente di personale sanitario. 600 nuovi medici che siamo in grado di introdurre nella sanità ma non ci fermiamo qui perché pensi che in questi cinque anni abbiamo più che triplicato i contratti di specializzazione, cioè dei medici in formazione. Da quest'anno 620 i posti nelle scuole di specialità dell'Alma Mater in grado di assorbire in teoria tutti i suoi laureati in medicina. Alla cerimonia di Forlì, seguita da un'analoga Ravenna, i vertici delle istituzioni e della USL Romagna. Anche Rimini e Cesena beneficeranno delle ricadute positive dei nuovi corsi di laurea. Perché medicina non significa solo corsi di laurea in medicina e chirurgia per una città, per un territorio, significa indotto. Significa che noi avremo a regime nei prossimi sei anni circa 600 studenti che frequenteranno in pianta stabile questo territorio. Che significa che frequenteranno per le loro attività cliniche l'ospedale. E quindi di fatto un territorio che si arricchirà di un crescente numero di soggetti adulti che stanno facendo un investimento molto importante e delicato ma in una logica nazionale. Grazie a tutti.